Campo sportivo Ricciardelli di Sansevero è il teatro dove la maggiore formazione di calcio della città sta completando la fase di preparazione, marcia di avvicinamento all'esordio al terzo anno consecutivo al campionato di Serie D dopo una prima fase di ritiro a Monte Sant'Angelo. Ormai il fortino di precampionato della formazione giallo Granata le ultime fasi le sta svolgendo qui proprio in città in vista di quello che sarà il primo impegno stagionale che sarà la Coppa Italia e poi l'inizio del campionato con la squadra che non è ancora al completo con lo staff tecnico in stretta collaborazione con la società che sta ancora completando il roster ma di questi tempi è più che normale per una società calcistica di questa categoria visto anche il periodo. Ma la squadra è già delineata con molti punti fermi già tra confermati e nuovi arrivi dei quali ne parleremo innanzitutto con mister Severo De Felice che è il tecnico confermato dopo la splendida cavalcata della passata stagione della permanenza in Serie D. Anche quest'anno ricomincerà dal primo giorno anzi ha già cominciato dalla fase di allestimento della squadra che è la prima fase di lavoro per una società sportiva e che guiderà anche per quest'anno la squadra giallo Granata. Mister De Felice si ricomincia, anzi avete già ricominciato da un mesetto, il campionato è ancora a lungo dal divenire perché pare che siano slittate un po' tutti i calendari sia di esordio di Coppa Italia che di esordio in campionato. Com'è la situazione? Credo che il campionato inizi il 6 per lo meno dalle notizie trapelate sempre non ci sia nessuna volontà per farlo slittare di una settimana. Noi ovviamente ci stiamo preparando per quella data, poi se dovesse slittare non ti nascondo che non mi dispiacerebbe così qualche ultimo innesto entra un po' più in forma. Ecco parliamo di quella che è la formazione, diversi confermati rispetto al rostere della passata stagione che ha conquistato la permanenza per il secondo anno consecutivo in serie D, nuovi innesti, alcuni di prestigio, alcuni anche annunciati in queste ultime ore. Sì, come sempre la costruzione della squadra non può prescindere dal budget imposto dalla società, per questo abbiamo cercato elementi di valore che ci potessero dare una mano senza fare ovviamente follia. Alcuni di questi io li conosco molto bene e quindi tra virgolette sono andato un po' sul sicuro. La squadra che punta alla terza permanenza consecutiva ovviamente? Sì, la salvezza ovviamente è il primo obiettivo di questa squadra, poi le variabili che condizionano l'annata sono infinite, se abbiamo anche un po' di fortuna penso che ci potremmo anche divertire. Però si parte ad handicap, c'è quel meno due in classifica per effetto della responsabilità oggettiva della società per quanto è successo l'anno scorso in occasione della partita Brindisi-Sansevero con la condanna. In questo momento di Willi Carudenuta che è stato il portiere del Sansevero Calcio si parte dal meno due, due punti abbiamo visto nelle ultime stagioni sono stati importanti per la fine del campionato. Ovviamente i punti non persi sul campo dispiace un po' di più, però io non vorrei fare polemiche, però io credo che questa legge della responsabilità oggettiva sia una legge assurda. Io ho letto qualche cosa, non sono molto mediatico, non leggo notizie su Facebook o cose del genere, però ho visto che c'è stata anche soddisfazione per questa sentenza nei nostri confronti. Io non sarei tanto soddisfatto, anzi tutt'altro, perché una società che è assolutamente pulita, non ha niente a che vedere con questa storia, oltre ad essere penalizzata sotto il profilo dell'immagine, deve essere anche penalizzata sul campo. L'anno scorso abbiamo perso i tre punti a brindisi e quindi tutta una serie di circostanze che penalizzano la società, in più deve partire anche con l'entica. Io la trovo una cosa assurda, quindi io non sono assolutamente soddisfatto della sentenza, perché per me è una legge assurda. Una società non può tenere sotto controllo tutti i suoi tesserati, quindi voglio dire, chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare di persona. Anche perché con una responsabilità oggettiva si giustificherebbe se l'accordo di un proprio tesserato sarebbe stato per vincere la partita, invece in questo caso è stato un accordo per perdere la partita. Quindi sarebbe una tripla penalizzazione, come diceva lei, sul campo di immagini e adesso anche dal meno due. No, ma poi la cosa assurda è che c'è anche l'aggravante, cioè c'è l'aggravante del favoreggiamento in classifica al brindisi, quindi tutta una serie di circostanze, per carità di Dio. Io non voglio sindacare, non sono un esperto di legge o cose varie, però come logica io la trovo una cosa assurda. Torniamo a noi, si gioca a Sansevero? Sì, mi auguro di sì, credo di sì. È stato comunque il nostro fortino l'anno scorso e quindi io spero che comunque quest'anno ci sia un po' più di entusiasmo intorno a una squadretta di ragazzi che già nel finale dell'anno scorso ha fatto delle belle cose. Come hai detto te, tanti ragazzini sono rimasti, ragazzini che veramente hanno onorato questa maglia, quindi io spero che il calore e l'apporto del pubblico ci sia dalle prime giornate. Tanto per cominciare hai confermato lo staff tecnico che ti ha collaborato nella passata stagione? Eh sì, se non mi menavano non potevo fare altrimenti. No, io ritengo uno staff di alta qualità e un allenatore non può prescindere da uno staff di qualità e di fiducia, quindi secondo me è meglio un giocatore in meno e avere uno staff del genere. A cominciare da Giampiero Danisi il preparatore atletico, il vicecentra, il preparatore dei portieri Marcello Ciofi, comunque gente di consolidata esperienza in categoria. Hai dimenticato Botticella, hai dimenticato, diciamo che fa parte dello staff medico, ma per me fa parte dello staff i due massaggiatori, oltre ovviamente i due dottori, ma Michele Romano e Gino Barone sono ragazzi veramente straordinari, quindi è importante avere uno staff di qualità, uno staff di uomini veri, di uomini che sanno anche, tra virgolette, soffrire, che sono sempre presenti. A che punto è la fase di preparazione? Una percentuale sul livello di forma dei ragazzi? No, i ragazzi devono ancora, devono ancora ovviamente entrare in forma in pieno e diciamo che siamo a buon punto, abbiamo programmato insieme al prof una preparazione per cercare di essere un po' più brillanti all'inizio, quindi in base a queste direttive dovremmo stare bene in breve tempo. Giampiero Danisi, il preparatore atletico del Sansevero Calcio, ci siamo visti qualche giorno fa al Palacastellana in qualità di preparatore della società di Pallacanestro, della gestistica Sansevero, al Ricciardello ovviamente ti occupi di calcio, ti occupi del Sansevero Calcio, confermatissimo, da ormai un anno e mezzo sei qui. Il mister De Felici ci ha detto che c'è stata qualche variazione di preparazione rispetto agli altri anni per partire un po' più sparati all'inizio del campionato, come suol dirsi? Esatto, l'idea del mister è quella di partire subito forte quest'anno, quindi facendo anche esperienza del campionato passato abbiamo impostato una preparazione con carichi più leggeri che all'inizio ma senza tralasciare nulla assolutamente. Come sta la squadra? La squadra sta bene, sta bene, rispondono, un gruppo di lavoro è eccezionale, ragazzi tutti quanti lavoratori, nessuno si tira indietro e sono molto contento, sono molto contento di come il direttore sportivo ha allestito questa squadra. Il preparatore atletico è quello che fa lavorare di più i giocatori spesso senza il pallone, dove a volte i giocatori preferiscono utilizzare, ma come si stanno impegnando i ragazzi? Molto, molto bene, anche se la mia preparazione è un po' mista, faccio usare sia il pallone che lavori a secco, noto davvero una grande concentrazione da parte di tutti, una voglia di far bene da parte di tutti, un gruppo abbastanza giovane, quindi questo diciamo che è un vantaggio per quanto riguarda il mio lavoro, perché si riescono a fare lavori in stato di freschezza che con un gruppo un po' più datato non avrei potuto fare. Si parla di uno slittamento dell'inizio del campionato, De Felici ci diceva che non gli dispiacerebbe se questo dovesse essere poi realmente vero o probabilmente non dispiacerebbe neanche a te poter lavorare qualche settimana in più? Assolutamente, una settimana in più di lavoro ci permette di andare a rifinire e di portare a termine questa parte iniziale di preparazione che noi abbiamo curato con molta cura. Grazie a Gian Piero Danisi. Mister Centra, il secondo di Severo De Felici è già lo scorso anno ad assistere l'allenatore di Serra Capriola che lo hai sostituito praticamente in quattro partite con un ruolino di marcia di tutto rispetto con due vittorie, un pareggio all'ultimo secondo agguandato dal Taranto. Nonostante questo Severo De Felici non ha avuto paura di tenerti ancora a Sansevero perché potresti rubargli il posto. Accetto la tua battuta, io mi onoro anche quest'anno di fare il secondo al mister e lo ringrazio per avermi riconfermato anche per quest'anno e quindi cercherò di dare come al solito il mio umile apporto alla squadra e a tutto lo staff tecnico. E al di là di quella che è poi la necessità in caso di squalifiche dell'allenatore, qual è il ruolo più importante del vice allenatore? Al di là di quello dell'aspetto scaramantico che lei ha detto prima, insomma della sostituzione in banchina alla domenica dove io rimando solo quelle che sono le direttive del mister, il mio apporto è durante la settimana nel coordinarmi con il preparatore atletico e con il mister per fare delle sedute che il mister programma. Com'è De Felice in panchina? Dalla tribuna, dalla tribuna stampa si vede un allenatore piuttosto vulcanico? Beh io da giocatore vorrei avere un mister come De Felice in quanto sembra da fuori da un aspetto un po' vulcanico come hai detto tu ma ha la stima di tutti i ragazzi specialmente dei giovani per cui ci sa fare molto con i giovani il suo arrabbiarsi insomma è ponderato e quindi i giovani lo apprezzano e lo stimano perché ci sa fare con loro per quanto riguarda la condizione della gara non è la prima volta che lo dico insomma meriterebbe anche categorie superiori. Tra qualche giorno praticamente inizia la stagione, entra nella parte ufficiale la stagione ormai è alle spalle un mese di preparazione sotto al sole di Sansevero ma prima al fresco di Monte Sant'Angelo qual è il livello di preparazione della squadra? Beh sta crescendo di giorno in giorno, stiamo ultimando le doppie sedute con il prof si alterna un lavoro fisico ad esercitazioni tecnico-tattiche e ieri abbiamo fatto un amichevole dove insomma a mio parere il lavoro si sta vedendo e sta venendo fuori credo che con la giusta umiltà il Sansevero potrà divertirsi e togliersi delle belle soddisfazioni quest'anno. Divertirsi e divertire il pubblico che potrà finalmente anche per questo campionato seguire la propria squadra a Sansevero? Eh se la squadra si diverte in campo di rimando fisiologicamente si diverte anche il pubblico ma già l'anno scorso verso la fine del campionato insomma quando la società ha fatto dei ritocchi, degli innesti giusti l'avete visto tutto insomma credo che Sansevero sia stato a livello delle prime della classe. Grazie mister. Grazie a voi. Il nuovo arrivato in Casa Giallo Granata Griego che praticamente si è aggregato da martedì e il terzo giorno di allenamento come hai notato l'ambiente? Ma sicuramente mi hanno accolto benissimo mi hanno fatto sentire subito uno di loro la squadra, il mister, la società sono contento di far parte di questa grande famiglia Adesso bisogna lavorare anche perché se come si dice in giro della settimana prossima inizia il campionato quindi bisogna subito farsi trovare pronti. Senti due stagioni a dietro eri al Taranto dove ovviamente c'è un ambiente, un'organizzazione completamente diversa rispetto a quella di Sansevero perché ci sono disponibilità finanziarie ben più ampia rispetto alla piazza Sanseverese, due ambienti completamente diversi ma qui magari c'è il vantaggio di essere una famiglia? Sicuramente Taranto è una piazza che con questa categoria non ha niente a che vedere di certo non lo scopro io però purtroppo anche loro stanno combattendo, hanno avuto problemi in passato quindi adesso si trovano in 3D, vediamo. Sansevero invece è una piccola realtà che alla fine da quello che ho visto ho potuto constatare questi giorni si lavora bene, appunto come dicevi tu è una famiglia quindi si fanno le cose fatte bene, l'organizzazione è quello che serve, il giusto io ti ripeto ho visto per quello che ho potuto vedere questi giorni la base c'è, ci sono tutte le basi per fare bene, adesso bisogna iniziare subito forte. L'obiettivo personale e l'obiettivo stagionale della squadra? Sicuramente l'obiettivo personale è fare bene e quello della squadra invece penso che non ci prefissiamo obiettivi, sicuramente il primo sarà togliere la penalizzazione quindi prima lo facciamo e meglio possiamo pensare sempre a partita dopo partita. Un altro obiettivo potrebbe essere quello di divertire il pubblico per avere sempre il Ricciardelli sempre più pieno? Sicuramente, adesso tocca a noi far avvicinare la città alla squadra e magari divertirci insieme. Andrea Florio, capitano del Sansevero Calcio, il capitano della squadra della propria città, un motivo di orgoglio in più per indossare questa fascia? Sicuramente, questo è il mio quinto anno consecutivo e spero anche quest'anno di riuscire a raccogliere dei risultati positivi come abbiamo fatto negli ultimi 4-5 anni. Ormai possiamo considerarti la memoria storica degli ultimi anni del Sansevero Calcio, dalla promozione dall'eccellenza alla Serie D, dagli anni e i due anni in Serie D con le due splendide permanenze nel massimo campionato dilettantistico. Si riparte quest'anno con lo stesso entusiasmo di quando si aveva 15 anni? Sì, sì, sicuramente. La voglia è sempre la stessa. Quest'anno c'è ancora più voglia di fare bene perché già da adesso abbiamo un gruppo abbastanza unito e speriamo di riuscire ad arrivare per dei traguardi veramente importanti. L'obiettivo era quello di creare il giusto mix tra giovani e giocatori esperti e quanto è stato allestito nella formazione? Sì, sì, sicuramente un'ottima squadra. Ci sono nuovi arrivi di esperienza e anche tanti giovani che si vogliono mettere in mostra. Quindi un gruppo abbastanza solido e compatto. La notizia positiva è che molto probabilmente, anzi io direi quasi sicuramente, si giocherà a Sansevero questa stagione dall'inizio del campionato così come è successo lo scorso anno. La notizia negativa che fa da contrattare è che si partirà dal meno due. Quali sono gli stati di animo per queste due situazioni? Sicuramente giocare in casa è una cosa di fondamentale importanza. A noi il campo non dico che è tutto ma quasi perché ci alleniamo tutti i giorni e per noi è importante appunto giocare la domenica qui. Per quanto riguarda la penalizzazione purtroppo è arrivato questo deferimento dalla Lega e ahimè dobbiamo sopperire a questo anche se sono semplicemente due punti. Con una vittoria già riusciamo ad avere un cammino in più. Che potrebbe essere uno stimolo in più per iniziare bene il campionato? Sì sicuramente. Noi dobbiamo appunto iniziare già bene l'annata sperando di raggiungere il primo possibile la salvezza. Non come gli ultimi anni che all'ultima giornata siamo riusciti a raggiungerla appunto. Quanto sarà importante avere il grande pubblico dalla vostra parte vedere questa curva piena? Ti ripeto per noi il campo giocare in casa è importantissimo anche perché questa è una piazza abbastanza piccola però comunque quando giochiamo in casa il pubblico si fa sentire e diciamo diventa una piccola bolgia diciamo. Grazie Andrea Florio. Si lavora al Ricciardelli di Sansevero abbiamo ascoltato una serie di protagonisti del Sansevero Calcio che disputerà il terzo campionato consecutivo in Serie D per la terza stagione consecutiva. Domenica l'amichevole, un amichevole importante a Sansevero con il campo basso probabilmente una nobile decaduta ma che sta disputando e che disputerà il campionato di Serie D nella prossima stagione quindi un amichevole probante per misurare lo stato di forma e la qualità della formazione allestita dalla società e dallo staff tecnico. Appuntamento al Ricciardelli alle ore 15 per vedere all'opera i ragazzi di De Felice.